Da una delle penne più importanti del Novecento napoletano, nasce un comicissimo testo che fornisce uno spaccato di Napoli dove la sorte avversa si può nascondere anche dietro un'apparente grande fortuna. La compagnia amatoriale La piccola ribalta Oplontina di Torre Annunziata, ospite della nostra stagione teatrale, si mette in gioco con A morte e carnevala, in cui il protagonista è il vecchio usuraio Pasquale Capozzi, detto appunto Carnevale. Intrighi, pettegolezzi e interessi daranno vita alla commedia di Viviani, in cui la morte di Carnevale scatenerà una comica corsa alla sua eredità con un insospettabile colpo di scena. La piccola ribalta Oplontina di Torre Annunziata presenta A morte e carnevala, commedia in tre atti di Raffaele Viviani, regia di Luigi Marasca, sabato 16 marzo 2013, ore 21 e 15, al Cinema Teatro Astra. La piccola stagione 2013, teatro, musica, poesia, info e prenotazioni 349 85 09796 o sul nostro sito teatro piccolaribalta.it o sul nostro sito teatro piccolaribalta.it